La Regione Lazio e quindi in primis il Presidente della Giunta Francesco Rocca, tutta la Giunta e insieme alla Forum Famiglie vogliamo dare un segnale importante di grande attenzione a tutte le famiglie. Dobbiamo sfatare questo inverno demografico, dobbiamo aumentare ovviamente le nascite perché è il futuro del nostro Paese. E questo è un piccolo segnale, però un segnale significativo di attenzione nei confronti delle mamme e di tutte le famiglie. Sono dei giochi importanti di qualità della Fondazione Montessori e arrivano da zero fino a 24 mesi, quindi durano due anni. Oggi abbiamo iniziato con il San Camillo, ma queste consegne sono 1.500 kit che andranno, sono 12 kit, abbiamo detto 12 giocattoli, sono 1.500 che andranno ai primi 1.500 nati del 2024 e questo riguarderà tutti gli ospedali pubblici del Lazio o meglio tutti quegli ospedali che hanno i punti nascita.